Ciao a tutti! Oggi un nuovo video outfit, è un outfit che ho pensato per un aperitivo serale è la vigilia di Ferragosto, sto andando a fare un aperitivo e ho deciso di vestirmi così e volevo mostrarvelo per quanto riguarda il make up non ho fatto niente di particolare, i capelli li ho lasciati sciolti ricci e passiamo agli accessori per quanto riguarda gli accessori ho messo questi orecchini qui a forma di mezzaluna con il blu che richiamano un po' la camicia per quanto riguarda la collana ho deciso di mettere questa collana bella lunga con questa bambolina fashion con la borsettina molto molto carina per quanto riguarda il bracciale ho messo questo qui con tutti i ciondolini vari e per quanto riguarda l'orologio il mio classico di dolce gabbana passiamo all'outfit completo allora è un outfit veramente comodissimo però mi piaceva questo abbinamento e ho voluto farlo allora vi spiego per quanto riguarda la camicia ho messo questa camicia morbidissima blu elettrico che ho comprato da Forever 21 l'anno scorso e porto il collettino così alla coreana e rimane morbido qui e ho deciso di splusarla all'interno del pantalocino poi ho messo degli shorts neri questi sono di Zara quelli che ho comprato qualche anno fa e ho abbinato tutte queste scarpe qui che ho comprato da H&M comodissime per quanto riguarda la rossa ho abbinato questa qui di Aviero Martini una new entry con i toni dell'azzurro e questo è il mio outfit per stasera per fare un aperitivo in centro comodo ma secondo me anche molto carino fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate nei commentini spero vi piaccia noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio ciao ciao